Benvenuti all'angolo della poesia e della narrativa a cura di Cefaluart con il patrocinio del Cenacolo Letterario Italiano via 25 novembre capeggiato dal qui presente Antonio Barracato. Comincio col presentare l'ospite speciale di questa sera direttamente da Somma Lombardo. Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il poeta e scrittore Claudio Soave. Benvenuto Claudio. Grazie, grazie Francesco, grazie Antonio. Per me è un piacere essere qui con voi oggi. È stata un'occasione veramente speciale quella di poterci incontrare, conoscere e avere l'opportunità di fare questa chiacchierata con gli amici che possono seguirci. Do anche il benvenuto al nostro presidente Antonio Barracato. Benvenuto Antonio. Ti passo il microfono per il saluto iniziale. Grazie, chiero Francesco. È sempre un piacere essere qui con te e oggi in maniera particolare essere con l'amico Claudio Soave che viene da lontano. Quindi condividiamo questo momento intimo di poesia e ringraziamo chi ci vuole seguire. Claudio Soave ha pubblicato nel 2019 una raccolta di Omelie che porta come titolo Con gioia verso il Signore della vita, contenente tra l'altro la prefazione di Graziella Di Giorgio, giornalista del Giornale di Sicilia. Sempre nel 2019 ha pubblicato la raccolta Soffio di vita, contenente l'introduzione di Leana De Galeazzi, la prefazione del cui è presente Antonio Barracato e l'illustrazione di copertina curata da Alessio Coluccio. Claudio Soave è nato il 7 luglio 1961 a Cologna Veneta, provincia di Verona. E risiede a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Ha conseguito il titolo di accademico di magistero in scienze religiose, è socio dell'associazione culturale Billesci e del Cenacolo Letterario Italiano via 25 novembre di Cefalù. Ha ricevuto diversi riconoscimenti nel corso di concorsi letterari in cui ha partecipato. Le sue poesie sono state inserite in diverse antologie, tra cui le Encyclopetive volume 2, 3, 4 e 5, curate da Antonio Barracato dal Cenacolo Letterario Italiano. Claudio Soave ha pubblicato con edizione Billesci un libro di omelie dal titolo Con gioia verso il Signore della vita, nel 2019. La sillogia di poesie Soffio di vita, nello stesso anno, e nel 2021 ha pubblicato una seconda sillogia di poesie Ascolta la voce del cuore, dedicato alla moglie viviana prevolutamente scomparsa nel 2020. Allora Claudio, parliamo del tuo primo progetto che porta come titolo Con gioia verso il Signore della vita, una raccolta di omelie che dicevamo prima di cui la prefazione è stata curata da Graziella di Giorgio. Come è nato questo progetto? Perché hai deciso di raccogliere tutte queste omelie in un volume? Ho deciso di raccogliere queste omelie perché, come dice il titolo, volevo annunciare anche attraverso il libro, attraverso la pubblicazione, il Signore della vita. Io sono diacono, permanente, e tra i miei ministeri c'è anche quello dell'annuncio della parola. L'annuncio della parola vuol dire fare le omelie durante la messa, ma annunciare questa parola in ogni occasione. Allora mi sembrava che la pubblicazione di un libro con la raccolta di qualche omelia, che non è detto che siano proprio belle, significative, comunque quello che uscì dal mio cuore e dall'ispirazione dello Spirito Santo, ecco anche la pubblicazione del libro, stavo dicendo, poteva essere un'occasione per annunciare che Dio è con noi, che ci vuole bene, che ci ama, nonostante tutto, anche in questo periodo così duro, così difficile per tutti, non ci abbandona, è appunto il Signore della vita. In questo periodo triste che stiamo vivendo a causa della pandemia, anche se adesso le cose stanno un po' migliorando, quanto è importante o è stato importante avere fede in Dio? Ma per me è stato molto importante, ma credo anche per tanta gente, insomma. Credo che l'esperienza che possiamo fare, soprattutto nei momenti duri, di incertezza, di indeterminatezza, come è stato questo periodo dal quale speriamo di uscire al più presto, ecco nei momenti duri noi sentiamo il bisogno di una parola di speranza, ma sentiamo anche l'esigenza che questa parola sia fondata. Ecco, la fede in Gesù Cristo fonda questa speranza, perché almeno chi ha fede, ha la certezza, come dicevo prima, che Dio è con noi, che ci accompagna sempre, non ci abbandona, allora capite che avere questa certezza è molto importante dal punto di vista interiore, spirituale, ma anche dal punto di vista umano. È una forza che ti permette, soprattutto nei momenti duri, ti permette comunque di andare avanti, di trovare una fiducia, di trovare il desiderio di rischiare, di trovare il desiderio anche di andare verso gli altri, perché questo è il messaggio del Vangelo. Allora credo che sia molto importante la fede. O comunque, per chi non avesse la fede, trovare delle forti motivazioni, trovare dei valori, trovare un senso e trasmettere questo senso agli altri, o comunque cercare di trasmettere quello che di bello, anzi che di meglio abbiamo, che è proprio la nostra interiorità, sono i nostri valori, il bello, il bene che sperimentiamo e che possiamo donare agli altri. Questo è fondamentale, perché io ho sperimentato, anche stando con i ragazzi, con i giovani, che c'è bisogno di speranza, che questo tempo in tante situazioni ci ha tagliato le gambe, soprattutto quando si andava avanti, si viveva così, senza eccessive prospettive, accontentandosi della quotidianità, accontentandosi di quello che la vita poteva darci. Ma il nostro cuore ha bisogno di tutt'altro, ha bisogno di profondità. E questo è emerso proprio in questo periodo di grande difficoltà. E allora, se non sappiamo cogliere questo bisogno, capite che perdiamo una grossa occasione. Un senso della vita che tu hai trovato attraverso la fede, ma anche attraverso la poesia, tanto che nel 2019 pubblichi la tua prima silloge che porta come titolo Soffio di vita. L'introduzione curata da Ileana De Galeazzi, la prefazione curata dal nostro presidente Antonio Barragato. Ascoltiamo due passi dalla prefazione di Antonio Barragato. Le liriche di Claudio Soave, animate da uno spirito francescano, pregno di grande bontà e apertura verso il prossimo, si collocano in un periodo storico in cui l'essere è privilegiato dal sembrare, supportato dalla forza del mondo globale che ci dissangua con le logiche privi di sentimenti e con la conseguenziale avidità di privilegiare il guadagno al di sopra di ogni valore umano. La religiosità diventa così quasi un vecchio retaggio, non una civiltà passata, senza comprendere il muro che si viene a creare fra il bene cristiano e la malvegerà delirante che arma e si impagionisce del futuro, schiavo di logiche disumane. Fortunatamente l'autore, attratto da antichi e importanti valori, si propone con le liriche sublime e toccanti che ci fanno riflettere sull'essenza dell'uomo. Pecchiere, invocazioni, riflessioni poetiche sono l'elemento generante delle sue poesie, che con grande intensità toccano la nostra anima. Lo stile linguistico, semplice, scarno, da qualsiasi sofisticazione ci coinvolge e ci trascina verso un sentiero ricco di concretezze. I valori umani diventano elementi cardine del suo modo di scrivere, infatti il suo amore per la madre lo porta ad affidare alla stessa Madonna vista come madre universale. I suoi versi pieni di significati profondi ci avvicinano con grande convinzione al divino, pregni d'amore verso il prossimo, che come balsamo cercano sapientemente di lanire le ferite del mondo. Significativa la poesia per il fratello sotto la croce, dove il dolore visto da tante angolazioni nel suo divenire diventa solenne preghiere di implodazione e di sollievo. La lirica da danza, bellissima metafora che paragona la vita a una danza della musica dell'amore, dove vari elementi diventano forza interiore. Niente nasce per caso. Claudio Slave scrive, illuminato da una profonda luce, che non nasce solo per il piacere di scrivere, ma per comunicare ciò che Dio gli ha regalato, per renderlo fruibile agli altri uomini. Lui, uomo di chiesa, devoto e molto religioso, ci vuole offrire i suoi pensieri per indurci alla riflessione. Oggi è diventata cosa rara, perché presi dai social e da questo modo di comunicare in quello virtuale, ci stai marginando verso un'aridità intellettuale. Chiaramente, prende carta e penna, diventa coraggioso, è difficoltoso sentire il profumo della carta stampata, in un modo reale per estennarci i propri pensieri, con estrema concretezza. L'amore diventa l'elemento pregnante del suo essere, in una soririca quanto amore è proclamato. A parole spesso vuote, spesso inconsapevoli, tu sei qui. E questa presenza è già amore, anche nell'amarezza delle sue espressioni. L'energia dell'amore trova le giuste parole. Così, San Francesco d'Assisi ci dice, chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani è alla testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani è la sua testa e il suo cuore è un artista. Caudo Sarave lavora ed opera con grande generosità, spinto dalla stessa energia del fare. Grazie Antonio, era la prefazione estratta dalla prima silloge di Claudio Soave, che porta come titolo Soffio di vita. Adesso ascoltiamo alcune poesie recitate dal nostro Claudio Soave, estratte da Soffio di vita. Buio dentro, sento freddo, un freddo strano che mi raggela l'anima. Fa molto caldo, caldo estivo, per me già insopportabile. Eppure mi fermo, considero, sento che il freddo non vien da fuori, è dentro di me. Sì, perché mentre fuori il caldo è asfiziante, dentro il buio è profondo e mi fa cadere nel vuoto. Voce La tua voce mi è giunta, mi ha raggiunto tra questo verde. E lei non mi è parsa verde. La tua voce, stanca e affaticata, mi ha colpito al cuore. E il cuore ha risposto. Ho rotto ogni indugio. Ho superato preoccupazioni. Tu, unica preoccupazione che valga la pena. Senza esitazione, sono corso da te. Il solo ecocente. Quando hai aperto gli occhi, e, sorpresa, mi hai visto i tuoi splendidi occhi si sono illuminati della luce dell'amore. Le tue labbra si sono aperte e il sorriso ha superato ogni fatica. cuore preghiera. Anche ora mi trovo a notte fonda a pregare. Volti, scritti, domande, whatsapp, messaggi affollano la mia mente e non solo. Anche il cuore è coinvolto. Sì, perché il mio cuore si fa sempre più sensibile e anche se palpita forte, troppo forte, non può non aprirsi. Il mio cuore non può non accogliere. E mentre questi volti e queste richieste si fanno sempre più familiari, il cuore diventa un battito solo con la preghiera, con l'intercessione. Spero, fratello, sorella, amica, amico, che questo mio battito di preghiera renda il tuo cuore più leggero, perché sono con te, perché cammino con te, perché condivido il tuo dolore o la tua ansia con te, sorella, fratello, amico, amica, per camminare più leggeri e magari spiccare il volo insieme. Dolore. Mi sento strappare il cuore. Immagini duri, commenti ancora più duri, crudi, violenti, quanto male, quanta sofferenza, quanto dolore, quanti cuori lacerati. Non resisto a tanto dolore. anche il mio cuore è lacerato come strappato sanguina del tuo sangue, del suo sangue, del vostro sangue, anche se non ti, non vi conosco, ma il tuo, il vostro dolore diventa il mio. E un'altra lirica che si chiama dolore, seconda. troppo forte. Non resisto. Condivido e mi chiedo se in me è tanto dolore quanto in te e in voi fratelli così feriti. Perché, oh Dio, perché permetti tutto questo dolore? Siamo fatti davvero per patire? Non siamo fatti per la gioia, per la vita? quante chiacchiere che non danno soddisfazione. E allora? Allora mio unico rifugio sei tu, cuore insanguinato che tutti i cuori accogli. mater dolorosa. Mentre il mio cuore piange lacrime di sangue vedo il tuo di cuore. Una visione lacerante e dolce allo stesso tempo. lacerante sì perché il tuo cuore a par del mio più del mio soffre enormemente. Visione dolce perché in questo cuore tutti i cuori ci stanno. Il tuo cuore piange soffre implora per tutti i nostri cuori con tutti i nostri cuori e nel tuo cuore noi ritroviamo il cammino e nel tuo cuore noi ritroviamo la forza e nel tuo cuore noi ritroviamo la speranza che sorregge e conduce i nostri passi. Oh mater dolorosa del tuo e dei nostri dolor ti prego che il nostro dolore non sia così forte da sembrarci inutile e insensato ti prego che il nostro dolor trovi sempre in te e nel tuo cuore dolce riparo e sicuro appiglio mater dolorosa grazie oh mamma rosso di sera il cielo è di un colore stupefacente il colore della passione il colore dell'amore rosso di sera bel tempo del tempo del tempo si spera rosso di sera colore della vita della nostra vita passione amore dolore preoccupazione rosso di sera e le tanti e le tanti nubi le nubi le nubi del cielo le nubi della vita le nubi della nostra vita ma sempre rosso è e l'amore anche oggi anche domani avrà la meglio rosso di sera bene abbiamo ascoltato alcune poesie estratte da Soffio di vita la prima silloge di Claudio Soave siamo arrivati al termine della puntata Claudio io ti ringrazio per essere intervenuto qui in trasmissione per noi per me per il presidente Antonio Barragato è stato un grande onore ospitarti fare questa chiacchierata ed ascoltare le tue bellissime liriche spero che verrai a trovarci in una nuova e prossima puntata sono io che ringrazio voi ringrazio Antonio ringrazio te Francesco per la vostra benignità per le parole che Antonio ha anche scritto nell'introduzione e per voi che avete avuto la compiacenza di ascoltarmi di ascoltarci spero di venire presto perché oggi sono stato veramente contento è stato veramente un piacere incontrarvi incontrare le vostre famiglie stare assieme e avere questa occasione bella di chiacchierare perché credo che la nostra missione la missione un po' di tutti noi sia quella di parlare sia quella di discutere sia quella di confrontarci e soprattutto per un editore per un centro culturale letterario ecco trasmettere delle opportunità di riflessione delle opportunità per le quali tutti noi tutti coloro che vogliono per lo meno possiamo pensare possiamo porci delle domande possiamo interrogarci perché questa è la forza dell'uomo noi possiamo sbagliare possiamo compiere cose belle ma se non troviamo la forza anzitutto di noi stessi di fermarci di riflettere e di trovare delle motivazioni forti per vivere rischiamo di perdere noi stessi e questo è davvero il rischio più grosso che noi corriamo e che dobbiamo cercare di evitare ad ogni costo ecco concludendo e davvero ringraziandovi di cuore mi piace ricordare quello che dice Papa Francesco quando rispetto al tempo che abbiamo vissuto dice la più grande disgrazia non è la pandemia ma la più grande disgrazia è che questa passi inutilmente ecco allora trovare delle occasioni per riflettere per porci domande è un grande dono è recuperare la bellezza della vita noi tutti abbiamo questa missione voi che siete responsabili centroculturali di questa casa editrice che organizzate tante occasioni di incontro e di confronto in modo particolare sentite questa chiamata a questo dono quindi grazie grazie a voi e grazie di questa responsabilità che io sento portate avanti molto bene anche con le enciclopedie con i volumi delle enciclopedie su diversi argomenti che proponete dopo aver chiesto ai vari autori e poeti di riflettere di proporre delle loro cantiche delle loro liriche e poi pubblicarle questo è un grande dono di quella bellezza che anche voi ci aiutate e aiutate tutti a recuperare e a vivere grazie grazie Claudio ti aspettiamo per una nuova e prossima puntata passo il microfono per la chiusura al padrone di casa il presidente del cenacolo letterario italiano via 25 novembre Antonio Barragato grazie e arrivederci grazie Francesco è stato veramente un arricchimento stare oggi pomeriggio qui con voi e abbiamo patrimonializzato un altro momento Claudio è una persona straordinaria molto ricco d'encio e quindi è veramente un piacere poter interloquire con lui grazie per chi ci ha ascoltato un caro saluto a tutti e alla prossima